benone va bene ma madonna io basta che non sia quelle ecco la riposta comunque cinque allora mi piace e come vanno a fare di sede questo amo dopo la troviamo in scopi da caldo comunque siamo in cima sembra che siamo in cima ma dopo c'è da fare tutto quanto il crinale arrivare alla fine del monte sì 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 non perdono la roba che c'è lì dietro? il portafoglio butta tutto dentro qua metti tutto dentro qua il portafoglio e il telefono si può tornare abbastanza forte no metti anche il telefono metti nella tasca del mezzo ma che se devo fare foto? ah sì sì il portafoglio è ancora ancora no no esatto vabbè anche uno scappa mica eh perché ogni tanto ci guardo dove? trova nella prima se ci sta quella piccolina questa qua? eh ci sta? sì ci vuole un zainetto la metà del mio prendi uno zainetto con il camel bag un zainetto con sacchetto idrico piccolino da mezzo litro e ma neanche un sacchetto non faccio giri lunghi è comodo? ah che fustino di zainetto fustino è come suda non maiale e questa anche? no quella vai un po' più su ci arrivi? tira fuori due briocini se ci sono hai preso la tasca giusta? no quella più bassa ci mangiamo due kinder un po' di zuccherini un po' di zuccherini ah no mi sento mi sento mi sento schifo ora si sapeva che era così caldo ma non mi importavo ho detto sta roba ho pensato che sarà freddo anche laggiù ma adesso freddo no però mi sento i tabassi di tre due mila e qualcosa di quota ma alla fine no noi arriviamo a fare 1300 di quota massimo no di altitudine di dislivello di altitudine arriviamo a 1300-14 comunque perché è arrivata sta botta di caldo eh? perché magari che qua c'erano 12-13 gradi qualche giorno fa non mi sento non mi sento non mi sento io spiegato di due tutto un altro spiegato di cos'altro so